L'ambasciata del Qatar, il quartiere delle ambasciate, onoreggiato la bicicletta, Villa Roma, African Pension, 7 days, I'm in the search, sono in bicicletta ad Asmara, solo in Eritrea, l'elegante quartiere dell'ambasciata, ma che bello andare in giro in bicicletta, ad Asmara in Eritrea, grandi e molto buoni in bicicletta. Il palazzo del ministro del governo, l'Omascien Square, ancora uno sguardo su Villa Roma, Asamenien Hotel, erano tutte ex ville italiane, bellissime ville, Cinema Odeon, Crystal Hotel, una orda di turisti, Cinema Croce Rosso, Barzilli, a un passo dal museo, Museo Nazionale, Palazzo Irga, Fiat Tagliero, Nafta Hotel, la rotonda adiacente, San Francesco, il monumento, la chiesa, Asmara, Eritrea, pedalo nelle strade deserte, Villa Asmara, sono in Eritrea. Grazie. Grazie. Grazie.